3 mezzi coinvolti in un incidente oggi martedì 26 giugno intorno alle 18.30 in via circonvarazione a Busano all'incrocio con Vianenni. A scontrarsi una Fiat Punto condotta da un 19enne di Busano, una Lancia Ypsilon con a bordo un giovane di Cornier e un Fiat Fiorino. In seguito all'impatto la Ypsilon si è ribaltata su un fianco. La Punto ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata e il Fiorino all'autostrada. Sul posto sono intervenuti i 118, i carabinieri del nucleo radiomobili di Veneria e la protezione civile di Busano. Lievemente feriti, i due giovani conducenti delle vetture accompagnati in ospedale per controlli, il leso, l'uomo sul Fiorino. La dinamica dell'incidente è al Valle dei Carabinieri. La dinamica dell'incrocio con Veneria e la protezione civile di Veneria e la protezione civile di Veneria. Grazie.